Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Ah ah, ecco la visita di un ammiratore! gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi tutti gli altri uomini sono degli ammiratori. Buongiorno, disse il piccolo principe, che buffo cappello avete! E' per salutare, gli rispose il vanitoso. E' per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti. Ah sì? disse il piccolo principe che non capiva. Batti le mani l'una contro l'altra, consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batte le mani l'una contro l'altra e il vanitoso salutò con modestia sollevando il cappello. E' più divertente che la visita al re, si disse il piccolo principe e ricominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo cinque minuti di questo esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco. E che cosa bisogna fare? domandò. Perché il cappello caschi? Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi. Mi ammiri molto? Veramente? domandò al piccolo principe. Che cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta. Ma tu sei solo sul tuo pianeta. Fammi questo piacere. Ammirami lo stesso. Ti ammiro, disse il piccolo principe alzando un po' con le spalle. Ma tu che te ne fai? E il piccolo principe se ne andò. Decisamente i grandi sono ben bizzarri, diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Ammiri qui ne andò. Grazie a tutti. Grazie.